Nel video di oggi parleremo di una notizia che ha riempito di gioia i cuori di molti, l'annuncio speciale di Ignazio Boschetto, condiviso con tutti i suoi fan subito dopo il suo emozionante matrimonio con Michelle Bertolini. Prima di immergerci nei dettagli di questo evento da favola, ti invitiamo a iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perderti i prossimi video e tutte le novità. Prima di continuare con il video, vi interessa ottenere un buono Amazon da 30 euro in soli 5 minuti in maniera completamente gratuita, sicura e veloce? Per riceverlo aprite i commenti e seguite la guida fissata nel primo commento sotto questo video o nella descrizione. Ignazio Boschetto, celebre membro del volo, e Michelle Bertolini hanno deciso di celebrare il loro amore non una, ma ben due volte. Dopo una cerimonia civile intima e riservata, i due hanno suggellato il loro legame con un secondo matrimonio in una splendida villa affacciata sul lago di Como. Immersi in un'atmosfera da sogno, tra i colori caldi del tramonto, amici e familiari hanno assistito a un momento carico di magia, dove l'amore eterno è stato promesso in un contesto fiabesco. Con la voce tremante dall'emozione, Ignazio ha pronunciato parole che hanno toccato profondamente tutti i presenti. Cosa mi succede quando mi guardi negli occhi e mi prendi la mano? Voglio che tu sia la mia vita, e ti darò tutto quello che non hai mai avuto. Un momento di pura emozione, accompagnato da lacrime di gioia che hanno evidenziato la profondità dei sentimenti che uniscono Ignazio e Michelle. Il loro primo matrimonio, più raccolto, si è svolto in un contesto intimo, dove Ignazio ha optato per un look semplice e informale con un completo scuro e una camicia leggermente sbottonata, mentre Michelle era radiosa in un raffinato abito a sirena di pizzo bianco. Tuttavia, è stato il secondo matrimonio a regalare una vera e propria festa in grande stile, una giornata all'insegna della felicità, con un pranzo elegante seguito da una serata di musica, balli e momenti indimenticabili. Anche la proposta di matrimonio ha avuto un significato profondo. Ignazio ha condiviso quel momento speciale con il suo caro amico Piero Barone, che lo ha accompagnato nella scelta dell'anello, rendendo la proposta un evento carico di affetto e complicità. E tu, cosa ne pensi del meraviglioso annuncio di Ignazio Boschetto? Facci sapere la tua opinione nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per restare aggiornato sui prossimi video e sulle ultime news.